buongiorno a voi cari amanti di rame, oggi c'è un nuovo video e siamo su kilby star allies assieme a sushi gamer buongiorno ecco qua siamo nella seconda parte della demo di kilby inserirci me lo comprerò e lo posso trarre da buondi seta dammi il tuo corpo ma stai aspettando l'acqua poi la sua l'acqua no io sono quello bello fiammi con il ghiacciolo che arriva dopo fiammi con il ghiacciolo non ci serve un ghiacciolo quando abbiamo l'acqua ma se che gli faccio un altro da lontano seta oh non devi andare così se veniva un po' sfocato il video dopo il polvero a rimediare su queste cose queste cose cosose buono bellissimo il mio volo è meraviglioso oh finito il nostro vecchietto diciamolo mi fai schifo no come si guardate il fungo guardate il fungo si era triste non se non ha i miei cappelli ma perchè ma poverino ma cosa è meraviglioso attento una rocetta non capisco chi sono pensavo di essere ah si si pensavo di essere la rocetta chi c'è chi c'è oh attento oh cosa vuoi no e vabbè abbiamo scogliato ciao carlin fai qualcosa di utile zio? bravo amico sei utile per una squadra e questa è una cosa buona molto buona ma cosa è una pietrina un sasso che raccoglie è utile vieni qua pietra fermi col ghiacciolo no non è utile niente non ci sono io perché hai tornato un bacino non mi devo diventa nota se vuoi no non rinuncia a spada perché ti piace sharp knight? perché è semplicemente la cosa che mi ricorda di più meta knight il mio personaggio preferito di kirbik oltretutto che è un antagonista in sacco dei giochi antagonisti no su kirbik adventure Wii era si se per questo è anche king ddd era vabbè no questo che è king ddd no è sì per il senso non è vero sì perché è parasole perché è molto oppure è orribile ma è utile c'è già un coso d'acqua e poi anche perché è quello che si somiglia di piovo del D a parte a volerli a parte a parte come vado a volerli ehm chi rinunce rinuncia la pietrina no non voglio rinunciare io lo volevo prenderlo è bellissimo come come volano dai prendi quello ma va però potevo prendere anche quello no non credi no ciccio vai bravo è intelligente beh la cpu è stata migliorata negli ultimi giochi non sono più delle capre vero? ehm ehi all'acbar all'acbar che bello che non si subisce danno che bello che sono io a prendere sempre il cosino speciale no cosa stavo facendo fuoco? ho detto ah beh acqua è meglio fuoco? il mio parere è meglio fuoco? io voglio fuoco no acqua è meglio mi do non ti do fuoco mi do fuoco? è brutto dire dammi fuoco però è vero ti do fuoco bravo dammi fuoco ma dammi fuoco? no ah comunque ho già detto che lui sarà sushi gamer che sono assieme a sushi gamer si l'ho già detto si l'ho detto in inizio del video se l'alzheimer precoce non è colpa mia salto io salto io tu non vuoi ammazzare i grigi ma no i grigi è un figo è bellissimo grigi ah grigi per chi non lo sapesse sei fermo stai fermo no è questo cosa qua eh bravo fungo tu sopravvivi tu no viva grigi buonanino no morite a tutti no ma cosa fai ah genio del male eh genio del male mica tanto genio se puoi muore grazie se sto tutto a saltare ma non è vero no grigi no grigi no voglio uccidere solo cosa lì perché viva grigi no voglio uccidere guarda 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 perché non ho più nobilità perché siamo morti mangia parassone ok ma non c'è bisogno parassone come danno un'abilità seriato bene si lama no ti danno ah apriamo appena è arrivata una notifica tra messi un po' di messaggi dato la chat va bene su bravo allora ci più l'hanno migliorato è potente è potente beh ora non esageriamo è molto potente è la prima volta che c'è un uomo no ti ricordi su kirbini avvencevo lui ah c'era si c'era un voldi armato di lancio non era nulla di che eh però era quello che utilizzavo di più e quello che sapevo utilizzare meglio poi io adoravo come come correva come saltava così si esatto come tutti gli altri che rimbalzano nell'aria questa cosa non ha senso vabbè kirby ha senso beh una pallina rossa che aspira si ha senso molto bacino qualcuno mi dà un po' di vita bacio chi è quello che c'era là sopra? boh tipo ah mi faccio amico al posto di roccia? ehm si dai no dai zack zack de zack dack de zack dack de zack adesso vediamo se è king de dede il mini boss si chiama zack non è king de dede è king de dede è king de dede però è sempre lo stesso è nel cartone che mi dà king de dede king de dede scusate c'è il telefono di casa che suona adesso sentirete parlare si domani giù di spaccolosa faccia pesci eh già una cosa in là nomi eh che c'è non viene a prendere la mamma no Scusate c'è una discussione in alto Stranamente in ogni video Succede qualcosa Per cause tutte diverse Boh è un mistero Dov'è la mia abilità? Sai come ti ho preso a cazzotti sui denti? Ah davvero? Non lo aspettavo Cibo, 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 cibo Vedi che dà un sacco di cibo? Ma va? In realtà l'avevo scoperto io una delle tante partite che abbiamo fatto Sì, dei tanti, di tre partite che abbiamo fatto Ah, tre sono tantissime Ok Da solo ci giocano almeno delle 100 volte Aspetta cosa succede se lui bucca al pavimento e tu voli? Mi so che è continuo No, non mi è venuto il cibo Dov'è il nostro amico? È morto No Scusate, scusate, c'è la nostra nonna Scusate, c'è un'altra interruzione In questa casa, ma, minchia, non c'è nulla da fare Sì, una volta ho provato a fare un video semi-nigri gamer Quello là di... Il basket è un gioco bello Non siamo riusciti È venuto il mio fratellino, mia nonna, mio nonno Poi abbiamo provato a casa sua